Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise per il calcio a 5 questo pomeriggio alle 16.30 con diretta su Telemolise Sport canale 112 in campo Lisernia per gara 1 della fase nazionale dei playoff al palafraraccio Bianco Celesti contro lo Sporting Grotte Automobilismo è tutto pronto per la 22esima edizione dello slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini nel pomeriggio le verifiche tecniche domani mattina alle 10 lo start alla seconda tappa del campionato italiano intanto questa mattina a Mascione c'è stata una nuova iniziativa promossa questa volta dal Comune che ha intitolato Largo Gianluca Battistini il curvone della contrada Luigi Giacampo uno degli organizzatori del 22esimo Memorial Battistini sono passati 22 anni un Memorial forse il più longevo della nostra regione la gara più longevo della regione vorrei solo ricordare che il Reale di Molise che è nato nel 78 è riuscito ad arrivare solo a 21 edizioni di questo ne siamo fieri cercheremo di continuare su questa strada per portarlo sicuramente io non ci sarò più però spero adesso sono anche emozionato per l'intitolazione Largo a Gianluca che è stato fatto a Mascione come dicevo spero che le edizioni non si fermeranno mai ecco questo 22 anni sono passati era quasi doveroso intitolare questo Largo a Gianluca Battistini quindi onore a lui e ovviamente a questo Memorial dedicato alla sua persona diciamo che questo ci fa onore ci riempie di gioia e ci spinge sicuramente a continuare e a continuare a fare sempre meglio la gente forse neanche ci credeva lo abbiamo tenuto nascosto per non farlo sapere però visto anche senza chiamare nessuno quante persone sono qui presenti tutto ciò ci fa capire che il comune, che la famiglia hanno scelto la strada giusta nell'intitolazione di questo Largo per noi che abitiamo nella zona è un grandissimo onore ne andremo fiere per tutta la vita abbiamo visto anche tanta commozione negli occhi e nello sguardo di mamma Tecla del papà Renzo, del fratello insomma era un giusto quadro per questo ragazzo Sì, 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 indubbiamente la commozione c'è stata anche da parte nostra che lo conosciamo tutti e che lavoriamo in sua memoria per far sì che questa gara accolga sempre nuove iscrizioni e nuove titolazioni vorrei anche ricordare che più di così non è che si possa tanto fare sempre che ci sia in mente di poter avere una titolazione per il campionato europeo che stanno appena istituendo è un anno che lo stanno facendo un campionato quasi in prova sicuramente faremo di tutto e lotteremo per ottenere questa titolazione del resto che devo dire Borrelli a tutti e in bocca al lupo Sente particolarmente questo slalom Fabio Emanuele campione italiano in carico della specialità Fabio Emanuele è una gara tu che hai vinto insomma varie edizioni di questo campionato italiano slalom però questa è la gara a cui tieni di più sicuramente sì è la gara che non soltanto io personalmente tengo di più un po' tutti quanti i piloti locali anche tutti gli organizzatori devo dire che da diversi anni questa area che respiriamo noi locali ha respirato anche chi viene da fuori quindi anche i piloti amici che vengono da tutte le parti d'Italia sono coinvolti in questo momento particolare una manifestazione che ci diceva Renzo Battistini sfiora le 100 unità come concorrenti Sì quest'anno siamo iscritti per la manifestazione agonistica 98-99 attualmente e abbiamo 15 vetture per regolarità quindi siamo oltre i 100 e devo dire che questo staff quest'anno si è superato in maniera eccezionale e confermo il fatto che negli ultimi 3-4 anni il trend di questa nostra manifestazione è positiva anche a livello nazionale siamo l'unica gara che riesce a crescere come numero di iscritti anno per anno dal 2008 abbiamo avuto un incremento sistematico del 20-30% di iscritti ogni anno Ci sono una serie di manifestazioni collaterali ne abbiamo parlato diffusamente quest'anno si è presa l'occasione dello slalom anche per dare spazio agli artisti insomma lo dicevi tu e anche ai vecchi concorrenti ai vecchi piloti quindi secondo me avete fatto una scelta oculata perché insieme di contorno ad una manifestazione del genere è giusto anche concorso fotografico con la lotteria Esattamente abbiamo avuto questa idea diciamo più persone chi ha dato un input chi ne ha dato un altro ci siamo riuniti abbiamo creato questo tipo di manifestazione collaterale come lo dicevi tu sia la manifestazione fotografica le vecchie glorie chiamiamole così dei piloti della vecchia Campobasso Corse e quant'altro per cercare di ravvivare questa manifestazione nel senso per farla sentire un po' di più anche proprio ai nostri corregionali perché a volte magari girando non tutti sapevano che questa manifestazione era di un interesse nazionale quindi di titolarità italiana tra l'altro mi va di dirlo è l'unica gara è l'unica manifestazione che da 18 anni ininterrottamente è valida per il campionato italiano slalom dico questo perché le migliori gare d'Italia che sono anche al nord o al sud Italia che hanno magari 40 anni di vita 45 anni di vita purtroppo anche negli anni hanno avuto degli stop quindi magari hanno fatto 4-5 anni di campionato italiano poi c'è stato uno stop di qualche anno per poi riprenderlo quindi noi abbiamo avuto questa forza di tenere 18 anni in piedi sempre lo stesso tipo di validità Allora un'ultima cosa cioè la tua osella è pronta? La mia macchina è pronta sì siamo arrivati sempre un po' all'ultimo minuto perché quest'anno abbiamo fatto la prima gara in Sicilia a Messina però abbiamo avuto dei problemi al motore e quindi abbiamo potuto fare delle modifiche tra la Sicilia e il Campobasso però qualche giorno fa abbiamo fatto un test la macchina è tutta a posto spero di poter fare una bella gara e di poter far divertire i miei tifosi Verrà presentato domani pomeriggio il libro Un mese di passione scritto da Donato Tronca organizzatore storico della manifestazione sportiva Clou del mese di giugno per celebrare la patrona di Riccia la Madonna del Carmine il libro è una raccolta di storie articoli e foto per ripercorrere i 20 anni del torneo l'appuntamento è per domani alle 18 presso la sala dell'ex convento in piazza Umberto I a Riccia il maltempo ha costretto la delegazione provinciale CONI di Campobasso a spostare la festa del gioco sport alla palestra Sturzo Antonio Rosari delegato CONI della sezione del Molise festa del gioco sport questa è una organizzazione questa è una festa che conclude la prima parte del programma sì come ogni anno anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questa manifestazione date le pessime condizioni atmosferiche abbiamo potuto ripiegare sullo Sturzo ringraziamo l'associazione CEP Nord che ci ha ospitato i ragazzi stanno un po' stretti però ugualmente stanno divertendo stanno facendo stanno svolgendo il programma messo sul tappeto e quindi andiamo bene 16 scuole circa 400 bambini bellissima giornata di sport come è articolata questa giornata e come si concluderà diciamo le scuole effettivamente che hanno partecipato a questo progetto sono 20 rispetto al passato che avevamo 64 scuole siamo stati penalizzati dalla scomparsa delle province quali da due anni non avendo più la possibilità di darci fondi quindi siamo dovuti ripetere i nostri programmi tuttavia con la buona volontà la disponibilità di 20 comuni delle zone limitriche al campo basso siamo riusciti a portare avanti questo progetto qua per quanto riguarda la manifestazione diciamo ricalca come ogni anno le stesse attività le stesse discipline che riguardano un po' tutte dall'atletica all'arregge agli scacchi eccetera eccetera programmi futuri invece dell'associazione Coni Molise e obiettivi futuri specialmente noi come anche quest'anno che è un anno di magra noi siamo riusciti a mettere in cantina diversi progetti abbiamo il solito progetto per i disabili abbiamo il progetto per gli anziani abbiamo un progetto per i ragazzi delle case famiglia e in altre partiranno i campus nel 15 giugno quindi c'è molto da fare e ringraziando lo staff tecnico che abbiamo a disposizione riusciamo ad attuare i nostri programmi fissati nuoto domani quinto anno di attività per il centro sportivo M2 di Campodipietra intenso il programma stilato dalla presidente dalla presidente Amelia Mascioli ed il suo staff per festeggiare insieme ai soci e non questo traguardo la manifestazione inizierà alle 9 del mattino attività natatorie percorsi ludico-motori attività di fitness l'ingresso sarà libero in chiusura di giornata il taglio della torta e la premiazione del quarto concorso grafico creativo Mascot M2 ciclismo domani a Monteverde di Boiano il secondo trofeo Sant'Emidio saranno in Molise i migliori atleti della specialità cross country la mountain bike torna protagonista in Molise grazie al secondo trofeo Sant'Emidio XC MTB Race la prima prova del campionato regionale specialità cross andrà in scena nell'affascinante scenario di Monteverde di Boiano domani con partenza prevista alle ore 10 nel piazzale della chiesa madre di Sant'Emidio l'associazione matese mountain bike si è impegnata nuovamente nella riuscita di un evento che unisce gli amanti della natura dato che il percorso si immerge nei boschi e della bike inteso come sport tecnico e anche di forte socializzazione la lunghezza del percorso è di 5 km ripetuti per 5 volte con un dislivello per giro di 180 metri per un totale di 900 metri alla Kermess parteciperanno naturalmente molti atleti molisani in premissa Andrea Cardillo della Bike Story Isernia che ha raggiunto il podio d'argento nella Marathon Lazio ma oltre a lui ci saranno anche Stefano Altieri e Cristian Giura della Sessan Bike a loro si aggiungono Emiliano Lombardi Luciano Boianelli e Marco Di Geronimo il trofeo andrà a toccare anche le regioni vicini al Molise con sportivi provenienti dall'Abruzzo tra questi Fabio Marino l'anno scorso quarto assoluto mentre sarà assente il vincitore della prima edizione il comasco Francesco Fignini naturalmente i fari sono puntati anche sull'ormai famosa curva del fiasco che con tanto fiato sosterrà gli atleti durante l'intero percorso Calcio di serie D il Termoli ha da poco concluso la stagione ma già da tempo sta lavorando per progettare il futuro diverse le trattative intavolate dal presidente Nicola Cesare per ora nessuna certezza lavoro intenso ad Agnone dove per lunedì è in programma la prima riunione per stilare l'organigramma societario anche la neopromossa Campobasso sta lavorando in Casa Rosso Blu si parte dalla società il Campobasso lavora sodo per dare un aspetto più pregnante all'attuale base societaria per carità questo non vuol dire che così com'è non vada bene vogliamo solo significare che la società Rosso Blu si sta spendendo per diventare più robusta dal punto di vista finanziario e per essere più solida in vista del futuro una società fatta di amici e di tifosi che è difficile che possa fallire come si è lasciato sfuggire tranquillamente Giulio Perrucci ai nostri microfoni Perrucci rimarrà presidente in questi giorni il compito è reperire nuove fresche collaborazioni con cui poter intraprendere discorsi a lungo e medio periodo lo stesso Perrucci sostiene di aver trovato disponibilità nell'ambiente commerciale campobassano che deve essere solo corroborata dai fatti fatti che tutti i tifosi aspettano anche perché gli stessi supporters continuano a essere i principali sponsor del Campobasso quest'anno con una responsabilità in più che può costituire pure una sfida affascinante il comitato il cui conto corrente tocca quota 4.000 euro sarà chiamato a pagare iscrizione e fideiussione entro il 30 giugno i tempi sono stretti le cifre abbastanza larghe ma nulla è impossibile tenuto conto del cuore dei tifosi stessi l'appello lo ha lanciato anche il notaio Giordano nel corso della conferenza presso la provincia di Campobasso abbiamo portato 700 persone a Firenze in un giorno feriale ognuno ha dovuto spendere intorno ai 70 euro attuonato il professionista salernitano se tanto per fare un esempio mille persone volessero riconfermare lo stesso importo già saremmo a quota 70.000 euro insomma le ipotesi si moltiplicano di volontà ce n'è a Iosa di collaborare benché sia oggettivamente difficile trovare risorse in periodi di scarsa liquidità come questo attuale probabilmente l'aspetto sportivo è passato un po' in secondo piano negli ultimi giorni forse anche perché la società Rosso Plus si è affannata a riconfermare praticamente l'ossatura principale dell'organico a cominciare dal tecnico Farina cui certamente non si poteva dare un ben servito dopo 43 vittorie e 4 pareggi questi numeri essenziali della stagione appena terminata certo è ma questo i tecnici lo sanno tutti benissimo l'anno prossimo sarà tutta un'altra storia proprio per questo nel corso della scorsa estate il Campobasso ha pensato bene di procurarsi già degli elementi di categoria superiore per rendere meno gravoso il lavoro da fare per l'anno sportivo che sarà rimarranno tutti o quasi a fine mese avremo la lista ufficiale di nomi che saranno ancora in rosso blu pure l'anno prossimo poi la rosa sarà integrata in maniera cospicua con gli under dal 94 in giù e con un puntello per reparto salvo poi individuare anche altre lacune su cui dover intervenire calcio giovanile la scuola calcio olimpia agnonese del presidente Sica ha organizzato per domani al Civitelle il torneo Pulcini anno 2003 2004 2005 piccole glorie 8 le formazioni che scenderanno in campo Sporting Barletta Mirabello Difesa Grande Serra Capriola Olimpi Chisernia Carullo e per finire due formazioni dell'Olimpia agnonese la mattina la fase di qualificazione nel pomeriggio dalle 16 in poi le finali calcio regionale ultime gare play out nei tornei d'eccellenza e promozione oggi alle 16 in campo Comprensorio Vairano Alife in promozione domenica Rocca Sicura sempre alle 16 ospiterà la Maronea il regolamento prevede che in caso di parità dopo i tempi regolamentari si disputino due tempi supplementari se anche questi termineranno in parità si salverà la squadra padrone di casa perché meglio classificata al termine della stagione regolare Atletica la nuova Atletica Isenna in collaborazione con la Liga Italiana Ricerca Huntington ha organizzato per domani la RAN LIR una corsa di beneficenza di 5 km oppure una passeggiata di 1 km per reperire fondi da devolvere all'Associazione LIR per la ricerca scientifica e l'assistenza gratuita 10 euro il costo per gli adulti solo 5 per i più piccoli lo start è previsto alle 10.30 da piazza Celestino Duva ai nostri microfoni il professor Squettieri Professor Squettieri lo sport a sostegno della ricerca nello specifico l'Atletica per la ricerca su una malattia molto rara la malattia di Huntington Sì è un'associazione che ci vede frequentemente vicini allo sport è un'associazione di idee che ci vede frequentemente coinvolti perché la Liga Italiana Ricerca Huntington è storicamente sempre stata vicina al mondo dello sport al CONI e anche ad iniziative di questo tipo in particolare adesso con l'Atletica anche in passato con il mondo dell'Atletica ancora e anche in qualche occasione con il mondo del calcio quindi siamo felici che lo sport possa mediare messaggi di sensibilizzazione perché quale possibilità migliore di mettere insieme il desiderio è la prospettiva di una migliore qualità di vita e di benessere come lo sport garantisce è la necessità di arrivare a delle cure per malattie che producono una sofferenza incredibile è una malattia molto rara e quindi come tale anche poco conosciuta state facendo delle ricerche per monitorare più insomma con dati certi la diffusione soprattutto qui in Molise sì è una malattia che rientra nei numeri delle malattie rare con la caratteristica però che non si può solo considerare il numero dei malati ma vanno considerate anche le persone che sono a rischio di ammalarsi perché questa purtroppo è una malattia genetica in questo senso se noi stimiamo per esempio che ci sono 30 malati in Molise dobbiamo considerare che ci sono 150 persone a rischio di ammalarsi quindi la dimensione sociale del problema sebbene riferita ad una malattia rara non è poi così tanto rara da una parte dall'altra parte la ricerca scientifica è un ruolo fondamentale e noi ci stiamo battendo in tutti i sensi in tutti i campi possibili per poter favorire un avanzamento della conoscenza sia della conoscenza della ricerca biologica in laboratorio sia di quella clinica con la possibilità della prospettiva di terapie sperimentali come nel nostro centro accade di eseguire perché forse poche persone sanno che molto spesso in Molise in particolare Neuromed di cui io sono responsabile di una unità è centro coordinatore italiano di studi multicentrici internazionali per la malattia di Huntington e quindi coordina anche terapie sperimentali farmacologiche si svolgerà domani a partire dalle ore 7 presso la zona addestramento cani numero 7 di Ripa Limosani il primo memorial Mariano di Stella la gara di caccia pratica con l'utilizzo di cani da ferma è aperta a concorrenti molisani e delle regioni limitrofe in regolare possesso di portodarmi il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 6 circa 30 i volontari che questa domenica animeranno piazza municipio a Campobasso con giochi e musica l'iniziativa di volontariato rientra nel progetto piccoli ma cresceremo promosso dalla fraternità salesiana la riva ai nostri microfoni due giovani volontarie siamo con due volontarie del progetto piccoli ma cresceremo della fraternità salesiana la riva siamo con laura e martina laura iniziamo da te questa domenica già in piazza per animare la piazza municipio a Campobasso con giochi e divertimento naturalmente per i più piccoli quale è il programma allora il programma è di iniziare i giochi alle 11 quindi aspettiamo tutti i bambini alle 11 e inizieremo a creare delle squadre speriamo si formino quattro squadre molto numerose con vari nomi poi ogni squadra si darà dei motti dei gridi che griderà diciamo e avrà dei punti in seguito si inizieranno a svolgere dei giochi in tutto saranno quattro intervallati da dei banno delle canzoni e sempre da questi motti che a fine di ogni gioco le squadre dovranno fare per per esultare diciamo e quindi alla fine di tutto ci sarà una squadra che vincerà e quindi questa è la giornata Martina come si arriva diciamo così ad organizzare un evento così importante alla fine perché di solito in piazza ci sono sempre tanti bambini riuscite a coinvolgere anche nelle edizioni precedenti come vi organizzate voi come gruppo? Allora sì diciamo che noi appunto siamo divisi in diciamo tre gruppi fondamentali capitani arbitri e logistica per quanto riguarda la logistica si cura soprattutto dell'aspetto di coinvolgere i bambini infatti noi cerchiamo sempre modi alternativi per coinvolgere i bambini sia a giocare e sia a trovare dei modi per coinvolgere appunto i bambini che non vogliono giocare anche a disegnare o a fare diciamo cose creative che li possono tenere occupati e non è facile organizzare tutto questo lavoro però diciamo che ci vuole soprattutto grinta e voglia di mettersi in gioco e di appunto voler stare con i bambini abbiamo fatto vari incontri durante tutto l'anno e questi incontri sono serviti soprattutto per l'organizzazione e anche per farci crescere nel piccolo Laura come ti sei avvicinata a questo progetto e perché hai scelto anche proprio questo progetto allora i frati salesiani sono venuti a scuola e ci hanno presentato questi progetti e vari tipi di volontariato noi inizialmente abbiamo fatto un'infarinatura generale di che cos'è il volontariato e dei vari tipi proposti da loro io ho scelto piccoli ma cresceremo perché adoro stare con i bambini e poi soprattutto perché lo vedo un modo diverso di passare la domenica anche perché io da piccola spesso stavo la domenica in piazza e magari giocavo con i bambini così mentre adesso trovare qualcuno che mi organizza qualcosa fare delle gare conosce nuovi bambini mi sarebbe piaciuto e quindi mi fa piacere mettermi a disposizione per gli altri Martina tu in questa avventura del volontariato hai trovato solo lati positivi come ci hai già detto o anche qualche ostacolo diciamo così allora io personalmente ho trovato solamente lati positivi perché se prima potevo dire no mi vergogno andare a giocare oppure a stare con i bambini ero più timida adesso attraverso questa esperienza ho capito che non bisogna fermarsi alle barriere quindi essere timidi ma bisogna partecipare e io sono cresciuta molto sinceramente con questa esperienza tiro al volo il TAV di Campomarino sta ospitando da questa mattina il Fiocchi dei 2014 gara di Fossa Olimpica 50 piattelli a scorrere la Kermess proseguirà domani si qualificheranno per la finale i primi sette tiratori della classifica gare tre tiratori di seconda categoria e altrettanti di terza bene vi ricordo gli appuntamenti con lo sport sulla nostra emittente domani pomeriggio alle ore 18 domenica sport fatti commenti interviste e immagini alla domenica sportiva si tratta della penultima trasmissione di domenica sport per questa stagione agonistica esattamente la numero 984 avremo veramente ospiti importanti e quindi vi aspettiamo tutti quanti alle ore 18 di domani pomeriggio alle ore 22 come ogni domenica gli highlights i gol della domenica bene è tutto buon fine settimana telemolise lo sport d'autore ha presentato il TG Sport viaggio in Molise ogni giorno su telemolise un programma in collaborazione con Simona Fashion Arredamenti Testa Vena Giuseppe se sei un agente di commercio esperto lavora con noi potrai proporre con entusiasmo spazi pubblicitari sull'emittente televisiva da sempre leader in Molise che oggi copre anche Abruzzo e Lazio Roma compresa manda subito il tuo curriculum a lavoro chiocciola telemolise.com ed entra a far parte della nostra grande squadra scrivici subito l'ACMO è un'associazione nata per ricordare la signora Anna Pistilli Sipio Perrazzelli in favore dei malati oncologici grazie all'ACMO i pazienti e i loro familiari possono contare su uno sportello di psico-oncologia e i loro famiglia e i loro famiglia